Benvenuti in questo nuovo video, non è la seconda volta che faccio quest'intro perché ho provato ad iniziare a giocare al primo gioco e ha dato due miei problemi assolutamente no 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 di la verità non riuscivi a giocare non aveva senso non riuscivi a fare niente perché non leggi le cose oggi giochiamo dei giochi strani forti talmente strano che il primo è far prendere il diabete ad uno scheletro in un cimitero che mangia cibo e si ingozza ok iniziamo subito non so quanti ne facciamo buon appetito ora farò notare di nuovo perché l'ho già detto prima ero ci va più divertente ma è carino è carino è bellino sto già sclerato niente stò già nervoso vediamo vediamo ma c'era la storiella tu clicchi a chiappi apri la bocca dobbiamo far 100 calorie in 20 secondi magna più veloce 50 calorie come facciamo però brava non so che sto anch'io ok capito praticamente gli devi far sbattere il cibo nei denti per farlo mangiare ci vuole una laurea per capire questi giochini questo è il primo e secondo ancora ha messo peggio più stupido e pieno senso e vi avviso già e infatti non so quanti ne reggo tasto destro leggi cara miseria cara c'è un mal di testa non cliccare ogni due secondi 250 no adesso devi devi rompere l'uovo alla cocca quindi devi romperlo prendi nuovo prendi nuovo il giorno 2 era più facile del giorno 1 una volta che si capisce la meccanica il giorno 2 era veramente più semplice vediamo se ci dice qualcosa lascio un lascio parlo rompe l'animo ma la gente vuole giocare giochi semplici leggeri leggeri facili veloci non vogliono voi che parlate nessuno vinte se non vi ascolto nella vita reale non vi ascolto manco quando creato un gioco muti dovete stare muti devi prenderli con la forchetta ti si è staccato un occhio no no posso mangiare anche l'occhio ti è perdente ho impizzato che cosa succede è bellino però non sta lì a giudica sempre male cioè l'idea è caruccia ha sviluppato meglio sto gioco è carino è brava chi sta giocando brava l'occhio non ci serve pancia piena problemi risolte anche l'occhio tutto che vuole questo fantasma lasciami in pace e il problema sta nel fatto che hai fatto i movimenti e avanti indietro così sui denti scomodissimi no secondo me devi metterlo sul tosto e mangia tutto assieme ma stai zitta stai allontano il piatto mangia il fantasmino ah raga anche il tavolo mi mangio anche il tavolo da quanto ciò fa me 17.13 su 18 secondi mi sembra giusto così tasto destro tasto destro oggi comunque si è tutt'ora cara cara lo sai benissimo cosa abbiamo appena registrato e ho giocato io non tu lo sai benissimo che ti faceva cagare quel gioco non lo so non lo so l'hai scelto tu ti devi preparare i scenoli significa più cini è bello ti puoi mangiare anche la scatola no peccato dovevi mettere prima il latte come dovresti fare prima il latte poi i cereali prima c'è una diatriba su questa cosa che vuoi c'è gente che mette prima i cereali poi il latte e viceversa il latte con i cereali non mi interessa che te stai male cosa fai non io non mangio latte con i cereali vabbè io mangio il latte d'avena con il porridge è la stessa cosa faccio prima scaldare il latte poi ci metto il porridge a posto mostra e muta mangia 500 calorie questo livello è davvero un ma come ci arrivi a 500 da dove ci dovresti arrivare i cereali senza latte non hanno devi fare per forza la combo ma non ce la fai a farne 500 cioè te cade tutto addosso la metà te lo sei rovesciato il prossimo giochino ho bisogno di sfogarmi tranquillo ho bisogno di sfogarmi tranquillo l'ho scelto i giochi comunque quindi non troppo prendere con nessuno prossimo due giochi due terzo no perfetto perfetto arrivederci no no non è finito non è finito dobbiamo mettere le dita nella corrente c'è tipo la musica di chiesa almeno a prezzo no Steph ma devi fare qualcosa non credo non si dovevano incrociare non si dovevano filmato no vedi che devi fare qualcosa devi aiutare le dita ma non è un gioco di prose elettriche ti ha detto che oggi non hanno senso non cercare il senso sembra uno dei momenti in cui ti domandi se stai sognando perché non ha senso che sia che sia così comunque è un uomo presa col corpo di una carota palesemente e adesso chi l'ha fatto sto gioco? qualcuno che aveva tanto tempo libero sta andando non ho capito no io sono cioè sono ora anche incuriosita da questa storia in questo momento ma cosa stiamo facendo? no bro non rovinare la catena no no aspetta aspetta è interessante se tiri da una parte così però li tiri insieme ma io sto seguendo il flow è lui che non lo segue quindi non li devo buttare sembra tipo se quegli anime strani che ogni tanto capitano che tu dicevo perché lo sto guardando è più o meno è quella la sensazione ma vi faccio perdere la vista a tutti quindi meglio di no è la prima volta che va a senso il livello eh sì no basta con questi che corrono sta guardando male davvero impietanti comunque devi cagare no ti prego adesso ancora me la terza due a post mettigli lì in testa prendi del libro eh fai da solo tu stai capendo? eh pensavo fossero gli spinotti cioè che è quello il senso il senso tra virgolette però ma vabbè andiamo a pulire ma chi li inventa ma chi li inventa? cioè soprattutto chi li gioca perché noi vabbè stavo facendo il video però dico normalmente chi lo gioca? chi è che sta a giocare e completarlo pure? evidentemente qualcuno c'è hello goodbye ah devi rispondere se devo non mira hai ti conosco non ci trovo non stavi seguendo il show? sì no no certo ah vabbè giusto sei un po' insistente beh me ne sarei andata anch'io sei stato un po' cringione è triste di nuovo chissà se alla fine tipo uno di quei giochi dove non lo scatteremo no quando raggiungi il finale magari capito usci i puntini e usci ah vedi era così adesso puoi far unire lo no no è ancora peggio no no ecco esatto esatto immaginiamo già che volessi andare a farà lì no dai no 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 basta no no non penso che alla fine uniremo i puntini non penso proprio non penso proprio però è più simpatico di quello del quello ci voleva molto no perché quella era carina l'idea ma è di quelli che ti fa venire un sacco il nervoso invece almeno questo cioè si fa seguire capito non peggioriamo le cose ti prego mi ricordo la puntata di South Park stavo anche però ho mangiato ma sta venire cioè mi sta risalendo tutto la Steve Jobs che presentava il nuovo software cioè il nuovo hardware di Apple non so cosa stai dicendo non l'ho vista esattamente quello che hai visto proprio esattamente quello che hai visto basta è una posizione meravigliosa riusciamo a cambiare questa parte vi prego o meglio vi fa giocare a queste cose oscene no 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 ancora più ok fermiamoci qui che è meglio ecco erano apprezzo giustamente controllate anche voi che non si sa mai basta è bro stai andando via ok dai vi prego è sempre peggio Steph è sempre peggio io me ne vado ma che mi stai facendo giocare è finito abbiamo anche terminato ma cos'era Steph è osceno sto video staccalo non si può non lo so se è realmente finito o sarà solo la fine di questa parte non lo so basta io l'ho detto all'inizio del video si ma ho detto strani questo è proprio viaggione se qualcuno ha capito se qualcuno ha capito e vuole darci la propria visione filosofica esatto riescono del secondo gioco fantasiosa argomentata ed importante vi aspetto nei commenti perché credo che ce ne sarà bisogno vado a riposarmi questo video lo mettiamo a ferragosto così non lo vede nessuno sì ma è una buona idea ma siamo a luglio siamo i primi di luglio non l'ho poi pubblicato a me da me ce lo farò ma ne ho altri pronti per quel periodo c'è quello di Fortnite Lego che lo mette proprio quei giorni che fa 7 views e 5 panettoni ci vediamo nel prossimo video ciao